segnalare l'applicazione che verifica il green pass. Allora sul vostro smartphone troverete l'icona con scritto play store, cliccate sopra play store, ok, adesso sopra nel menu scriverete C19, ok, sotto vi compare verifica C19, cliccate sopra, a questo punto non bisogna né scaricarla né aprirla, ma andare in alto a destra sui tre puntini, cliccare segnala come inappropriato, a questo punto scorrere fino all'ultima opzione, altro motivo, e cliccare invia. A questo punto scriveremo applicazione che discrimina le persone, applicazione che discrimina le persone, e a questo punto daremo l'ok, l'avremo inviato e a questo punto più persone segnaleranno questa applicazione prima verrà bloccata e di conseguenza non sarà più possibile verificare chi ha il green pass.